Allora Gianluca Bonacchi prima di tutto volevamo sapere che cosa si intende per concetto quando si parla di employer branding e poi volevo capire più diciamo più ad ampio raggio come si approccia il mondo delle risorse umane nei confronti delle nuove tecnologie insomma dello sviluppo del digitale di questi anni certo allora l'employer branding nasce negli anni 90 più precisamente nel 1996 come un po l'applicazione del branding alle risorse umane perché perché nasce una necessità di attirare i talenti giusti ad oggi le persone hanno di fronte a loro un sacco di opportunità le persone sono sempre online sfruttano internet per cercare qualunque tipo di informazione e danno sempre in mano il cellulare questo ovviamente porta da un lato una grande opportunità alle aziende che si trovano davanti un pubblico enorme ma dall'altro le porta a confrontarsi con i loro competitor che hanno la stessa opportunità quindi riuscire ad essere un'azienda attrattiva e a sapersi raccontare è fondamentale ad oggi e credo che spesso ci sia un po di confusione spesso quando si parla di employer branding le aziende iniziano a pensare semplicemente a quello che offrono ai loro dipendenti che è fondamentale ovviamente ma è altrettanto importante raccontarlo essere in grado di raccontare la propria storia raccontare cosa motiva ogni persona ad alzarsi al mattino ad andare al lavoro e cosa si sta offrendo perché è bello lavorare per la nostra azienda interagire con i dipendenti interagire con le loro recensioni creare queste connessioni emotive e lo storytelling sono i punti di forza ad oggi per trovare i talenti giusti